Perché Palazzo d'Itta Cultura? Intanto noi siamo stati molto felici di raccogliere questo invito da MIBACT e da Mosca Partner per costituire un gruppo che si occupasse di lanciare e rilanciare Palazzo d'Itta a Milano come luogo di cultura. Questo fa parte un po' della nostra natura, della nostra agenzia di Ponderosa perché in tutte le nostre attività cerchiamo sempre di andare alla scoperta di luoghi nuovi della città, soprattutto appunto a Milano e quindi Palazzo d'Itta ci ha permesso di attivare dei nuovi progetti su un luogo meraviglioso in centro città non ancora conosciuto dal grande pubblico. Il nostro contributo e il nostro apporto come Ponderosa a questo progetto di Palazzo d'Itta Cultura si concentrerà soprattutto sulla musica e sulle performing arts. In particolare noi abbiamo già utilizzato questa sede lo scorso anno e quest'anno per PianoCity e per GESMI, questi due grandi progetti che portiamo avanti nella città. Quest'anno marcheremo con altri due appuntamenti musicali in autunno e confermiamo ancora una serie di piccoli concerti all'interno del Palazzo per GESMI. Grazie. Grazie.